Musica Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro gioker Siamo ritornati su FIFA 15, l'ora da Road to the Witcher 1 Ragazzi come vedete ho messo Falcao che ho trovato ragazzi Ho messo Hazard e Alaba ragazzi, mi fanno un'intesa incredibile Mi sono comprato anche Fabregas al posto di, l'ho messo di Xavi ragazzi Mi hanno dato un consiglio, ho messo Fabregas Ragazzi adesso la squadra praticamente è potentissima Abbiamo messo anche Martinez qui Ragazzi veramente ormai abbiamo una squadra della Madone Questi sono i miei sostituti, ecco qua Alba, Xavi e via dicendo Ragazzi veramente siamo pronti per rompere il culo con Falcao Rodrigo che poi mi hai detto che c'è Rodrigo in forma ragazzi Sicuramente che costa 90.000 credit, intorno ai 90.000 credit ragazzi E sono tantissimi per il momento, non ce l'ho quindi Vediamo se piano piano, che ne so, lo troverò dentro un nuovo l'impacco Oppure, boh, qualcuno lo venderà un po' di meno che fa uno sconto famiglia Quindi vediamo un attimo se riuscirò a trovarlo Perché voglio prendere Rodrigo in forma ragazzi Intanto vediamo qua l'avversario che squadra c'ha 80.000, 400 Eh, allora anche lui c'ha Gesù C'ha Alba, c'ha Bruschetta Dovebbe essere se non sbaglio Mascherano Iniesta, li mortacci tu hai C'ha Diego Costa, quello che cazzo è? Quello orchie sventro, dovrebbe essere Diego Costa Vabbè, c'ha una ottima squadra Quindi ragazzi, dobbiamo veramente impegnarci al massimo Vai così Rodrigo Vai così Rodrigo No, cazzo Che poi ragazzi, questo ragazzo che c'ho contro E dovrebbe essere un fan perché si è messo le cuffiette per parlare con me Ho sentito che ha detto Joker Quindi dovrebbe essere un fan Quindi speriamo che non mi rompa il culo ragazzi Vai Falcao Vai Falcao Bello così, va benissimo ragazzi Una rimessa laterale Dai la palla Alaba Dai la palla Alaba che è prontissimo Cazzo vai Alaba Che te menti, scurecette Eccolo Eccolo qui No, mi ha levato proprio palla in un modo bruttissimo No, i contropiedi li odio I contropiedi così porro li odio Diego Costa Diego Costa Diego Costa Regà, la vedo abbastanza tragica la situation Giocherigno Giocherigno mandala giù Bello così, va benissimo Eccolo Eccolo Mamma mia, bello Sentite sotto E' un ragazzo che sta veramente smadonnando Oddio, calcitangolo no Per favore Messianto Che banna giù Che pasta Mamma mia Un mostro Rodrigo 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 Mamma mia Rodrigo Mamma mia Rodrigo ragazzi Che fenomeno sto giocatore Che fenomeno ha questo giocatore ragazzi Una cosa allucinante 1-0 Grande così Rodrigo Lo voglio anche in forma Lo voglio Eccolo Falcao 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 Madonna Falcao ragazzi Intanto il mio avversario mi dice Che culo Dai così regà Falcao E c'è la doppietta Meravigliao Bello così Sotto alla scella Gli è passata la palla Ancora Rodrigo Ancora Rodrigo Madonna mia è un veterano ragazzi Rodrigo Rodrigo è veramente una macchina da guerra Dai questo ci fa il contropiede E la vedo veramente tosta col contropiede Ce l'ha il giocatore buono Meno male che c'è la laba Invece che va in difesa ragazzi Vai così Eccolo qui Rodrigo Rodrigo Te va giù Te va giù Te sei ferma E prende Un calcio d'angolo Va bene così ragà Dai che gli facciamo il terzo gol Facciamo una tattica mega galattica Una tattica mega galattica La mandiamo giù Per Alla Abba E c'è un tiro E c'è un altro Oddio Punizione Dove ho preso la punizione ragazzi Da dove ho preso la punizione Dobbiamo fare gulz Dobbiamo fare gol Quazard Un tiro Eccolo qui Oddio Oddio Mamma mia regà Mamma mia Ormai le punizioni proprio le sappiamo battere Sia di potenza che Battere di precisione Quindi regà veramente So contento Mi sto imparando a battere le punizioni Rodrigo di testa E ci arriva ragazzi Ma è un mostro questo Rodrigo È un mostro Vai così ancora Vai così E vai Azzard la manda al centro E sempre Rodrigo la prende Ma niente 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 Eccolo Eccolo Rodrigo Si ferma una bomba E la fa entrare 3 a 0 Al quarantatresimo ragazzi Rodrigo Va fanno usare A cacare E vai così ragazzi Mamma mia Maronna mia Da che dobbiamo Ottenere la promozione E andare in divisione 5 Se non sbaglio 6 Non mi ricordo Neanche in quel caso De promozione Di divisione Dobbiamo andare Intanto fai dei giochetti grandissimi Ancora con dei giochetti Ancora ma c'è Alaba Che balliscio clamorosamente Però non entra la palla Ottimo Oddio E me l'ha fatto Me l'ha fatto Ci può stare Qui ha fatto una bella azioncina E me l'ha messa nel culetto ragazzi Subito subito Quindi dobbiamo stare attenti Regà perché qua La partita è tutta aperta Cioè non è mai detto Che se fai un vantaggio di 3 gol Puoi vincere sicuro La palla è rotonda Mamma mia Calejon Calejon si ferma E un tiro a giro Di Calejon E entra anche questa ragazzi 4 a 1 Che ottima partita che stiamo facendo ragazzi Stiamo facendo veramente un'ottima partita A 64esimo Calejon Con il quarto goal Goal così Andiamo benissimo ragazzi Andiamo grandissimi Dobbiamo strameritare la promozione Ma io pur che altro Voglio vincere il titolo questo giro Che mi danno più big money Quindi voglio il titolo Oddio Alaba Che dolore Che dolore L'ho ucciso L'ho ucciso Non mi dai il rosso Non mi dai il rosso Ma Alaba Meno male è giallo Cartino giallo ci può stare Ti voglio andare a segnare E Rodrigo al volo Mamma mia il goal Rodrigo al volo ragazzi I 5 a 1 Rodrigo Mamma mia regà Rodrigo Nuovo Cristiano Ronaldo ragazzi Un fenomeno Un fenomeno al volo E invece l'ho dritta per Rodrigo C'è il tiro al volo Oddio Sì regà Mamma mia Mamma mia regà Cioè veramente era un tiro Che la mandavo tipo Da zio Peppino Invece l'avversario L'ha presa col suo piede E' entrata dentro No bellissimo regà Un goal Pallone d'oro Questo Il goal Pallone d'oro Massa come è cattivo hazard Regà Come è cattivo hazard Per Rodrigo No fammola fare No fuori il gioco Mannaggia la miseria Mamma mia ragazzi Che partitona Una partitona Emozionantissima Mamma mia E dai che non te lo facciamo fare Un altro goal E finisce 6 a 1 ragazzi Grandissima partita Grandissimo il mio avversario Che comunque è un fan Quindi lo saluto Mi dispiace Purtroppo è la prima volta Che mi dice bene Che vinco 6 a 1 Se è capitato Comunque è giocato bene Non ti posso dire niente E mi sono anche Vista brutta Un par di azioni Quindi grandissimo Complimenti E noi ragazzi Ce ne andiamo Con la seconda partita Intanto siamo stati comunque Promossi in divisione Quindi mi ricordo Che siamo stati promossi Quello è sicuro Però dobbiamo vincere L'altra 9.5 Rodrigo Un mostro 9.5 Rodrigo È una cosa Mamma mia Intanto ecco qua Abbiamo preso la promozione Se vinciamo questa Abbiamo due partite Se le pareggiamo Tutte e due Comunque ragazzi Prendiamo il titolo Ma se la vinciamo Questa Vinciamo il titolo Immediatamente Quindi ragazzi Ci dobbiamo farcela Oh c'è la bisellone Lì che sta in forma C'ha due biselloni In attacco ragazzi E questo E poi chi c'ha L'avvicino Porco due Frankenstein Ma che è Aiaiaia E mo ci sta No niente Ragazzi Meno male che questo Fa solo pallonetti Cioè se questo Tirerebbe normale A giro Praticamente mi segnerebbe Come non detto Come non detto Madonna Eh vabbè Non può fare miracoli Questo portiere Ragazzi Non può fare miracoli Sto portiere Ci sta praticamente Perforando Da 38 minuti Di gioco E prima o poi Ci stava il gol Ragazzi Però comunque Questo È un golletto Che non sopporto Questo regà Cale On Cale On E entra No Cioè regà Veramente l'avevo vista Dentro Cioè l'avevo vista Di rimbalzo Dentro Ho detto Ah vedi Un gol Eccezionale Invece Ce la siamo presa Riccamente nel culos Diamola qui Corta Diamola corta Diamola corta Ce l'ha presa L'avversario Bastardo Ah Questo fa pure Schemi Mega galattici Eh lo sapevo Lo sapevo Oh Ma che cazzo Ha fatto Non ci voglio Credere Regà Non ci voglio Credere Ma che cazzo Fa Reina No regà Non ci voglio Credere Prende gol Così Veramente No Cioè no Vabbè dai Questo gioco Fa cagare Quando fa così E' una cosa Schifosissima Proprio Vai Niente Niente Madonna mia Dai Non ci voglio Credere Non ci voglio Credere Vai Labba E tiraci una Stecca Labba Oddio Madonna Mio Dio Che golle Regà Labba Che golle Che ha fatto Madonna mia Che golle Ragà Mio Dio Una stecca Di Alaba Madre di Dio Ragazzi Che gollone Madonna Che Che se Lui Golle Meravigliau Questo ragazzi Sicuro se perdo Vale 10 Gol C'è Mamma mia Applausi Applausi a me stesso Compliment Ma Vaffanculo Però Ma questo è il gioco Che mi odia Faccio un gol Io E fai il gol Lui Ma Che cazzo Cioè Poi guardate che roba Il mio gioco Cioè Calejone Proprio là Che Non so La palla Ha detto La prendo Non la prendo Ma mi è fregato Un cazzo Vai così Bello così Calcio d'angolo Va benissimo Ragazzi Dai ce la possiamo fare Comunque al 69 Ce la possiamo fare Comunque Ma Vaffanculo Te la mando giù La mando proprio giù Così Per far il cao Che la prende di testa E c'è Oddio Madonna E tiraci Porca miseria Raga Porca miseria Dai che palla mia Però Dammi la palla Dammi la palla Che palla mia Su 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 Hazard al centro E c'è lui da solo Che segna ragazzi Un gol di testa Incro di Bilhaus Di Martinez Dai regala Che si riapre Con 3 a 2 Ce la possiamo fare Siamo a 72 Non ce la possiamo fare Ragazzi Mi sono cazzatissimo Tantissimo Intanto questo Che ancora Con questi contropiedi Ma intanto Noi abbiamo Alaba 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 Oh Oh Sta da solo Oh Madonna Ragazzi Non ce voglio credere C'è C'è il gioco Che si è ubriacato C'è il gioco Che si è ubriacato Ragazzi No non mi dica Che si disconnette Perché mi incazzo Non mi dica E si disconnette Perché mi faccio Lo dire il culo Perdere tre o due Così no eh Poi non credo Che la conta Però ragazzi Non credo Che si può disconnettere Una partita del genere C'è la posso tranquillamente Vincere Non mi fa così Non la disconnettere E baffanculo La disconnessa Oh Ma io no Porca puttana Quanto lo so Quando è così Porca puttana Era quasi finita Al settantaduesimo Potevo farcela ancora A meno a pareggiare Ma mi ci rote proprio il culo Quando è così Baffanculo Gli esporti di merda Oh Questi due cazzo Di problemi di merda O a meno che l'avversario Non è stronzo Che ha voluto disconnetersi Ma non credo Ma vai a fare in culo Vai Poi devo tranquillamente Vincere la partita Vincere Vabbè Comunque ragazzi La prossima partita La vinciamo E passiamo proprio Cioè siamo passeggiati Di divisione Ma possiamo prenderci Il titolo Come vedete ragazzi Andiamo in divisione 6 Quindi Io vi invito a lasciare Tantissimi like Ma solamente per il godalab Ragazzi Dobbiamo superare 6.000 like Per il prossimo episodio E se volete proprio Esagerare 7.000 o 8.000 like Ci facciamo un altro Opening packs Mega galattico Raga Io vi invito a lasciare Tantissimi like Di condividere Abbassare una pagina facebook Link in descrizione Link in descrizione Dovete anche il mio link Per google Per l'account google Quindi vi invito A aggiungermi nelle vostre cerche E ci vediamo Poi vedete il vostro gioco Ragazzi Bella Ciao a tutti Ciao a tutti